Cosa ti aspetti a livello personale o di squadra? A livello di squadra mi aspetto un girone impegnativo, difficile, però con tanta voglia per parte di tutti, partendo questa domenica ostia, di fare il meglio di quello che abbiamo fatto nel girone di andata. E a livello personale è più o meno uguale, sempre fare meglio di quello che abbiamo fatto. Obiettivo con doppia cifra? Sì, sì, ovvio. Senti, l'ostia all'andata fu una delle migliori prestazioni globali della San Giovanese, te lo ricordi? Quel 3-1 forse fece anche un po' sognare i tifosi azzurri, mi sbaglio? Sì, è vero che è stata una partita molto buona per parte da tutta la squadra, una partita che si è cominciata perdendo 0-1 e poi la squadra ha messo tutto per vincerla e ha fatto tre gol, quindi sembra che si vince facendo tre gol e sì, mi sembra che hai fatto una bella partita. Il campo, non so se lo conosci, non è dei migliori, è un sintetico ma molto logorato. Non sono mai stato, però sì, ci hanno detto che è un sintetico un pochino così così, però alla fine è il calcio, tutti abbiamo cominciato giocando nella strada della nostra casa, quindi sarà una partita di calcio come tutte altre.